Allora Vane, tu che punto sei? Ho già fatto tutto, allora dimmi Salze e mutandine Pantaloncini Ah no, i pantaloni lunghi Porta un jeans Magliette, anche due, tre magliette lunghe Io le ho prese per anni, poi magari non le utilizziamo Qui avete messo le scarpe Lei ne ha un paio di scorta Tu invece il paio di scorta non lo porti Ne hai uno solo di parola di ginnattica Ma sì, ma cosa ti serve? Ma cosa ti servono? Cosa ti serve? Un paio è più che sufficiente Stiamo tre settimane, mica sei anni Sì, e dopo esci, amore Che non si sa mai nevica Magari nevica e ci servono La renna, l'hai portata? Babbo Natale Brava, amore, aspetta un attimo Ti serve? Dai che chiudiamo Hai preso qualcosa di lungo? Ma spazio Anche due magliette Mi sto diventando uno spazio La? Spazio Eh, prendila Prendila La devi prendere, amore Ah, manca tutte le cose per l'apparecchio Adesso ti allargo l'apparecchio E poi lo mettiamo direttamente in valigia Anni, ricordiamocelo, eh, l'apparecchio Quando siamo lì Perché mancano poi quattro giorni Oggi è, oggi è, il giorno è oggi 23 Eh, domani mancano quattro giorni Quasi quasi domani mattina Te lo faccio già direttamente Me lo porto il portafoglio? No Caricatori mi hanno porti? Caricatori li mettiamo in valigia domani mattina Posso metterli nello zainetto? Appena chiudo questa Chiudo la cerniera Ah, la cerniera? E' pronta Quindi tu hai deciso di non portare lo zainetto, giusto? Sì, lì mi fa ridere anche a me Perché lì sono sul letto Allora, quindi Anastasia si è offerta volontaria A farsi uno zainetto Con dentro i pupazzetti per dormire E le vostre cuffie Che utilizzerete sull'aereo Per ascoltarvi quello che volete Senza rompere le scatole Non lo faccio pure mai Perché in Sardegna si muore di caldo Quindi? Certo, amore E sì, amore Io le cuffie le ho comprate anche per quello Così sull'aereo Anch'io mi isolo Sapete che io non è che A me piace tanto viaggiare in aereo Però un po' mi fa paura Quindi mi devo distrarre per bene Benissimo E guardate ragazzi Cucciolini a cucciolini Ho portato pure gioccolane Ma allora questa è con il gattino Un gattino oro Sì E invece questa con il cuore Guardate il cuore da sirena Tu va ne niente? Vabbè tu hai già addosso tutto Quello che ti serve Allora una cosa importante Le nostre unghie E se non avete ancora preso Lo sconto estate 10 Potete acquistarle Col 10% di sconto E un kit in omaggio Quindi cosa state aspettando Andatelo a comprare subito Direi proprio di sì Va bene Ci vediamo domani mattina? Sì Magari Adesso andiamo a cena Ci riposiamo Andiamo a dormire E ci vediamo domani mattina E poi con l'arrivo del taxi Che ci porta in aeroporto Madonna Vediamo un po' le binde Manessa è giù Amo Dobbiamo partire amore Buongiorno Amore Oggi si parte Andiamo in vacanza Anastasia Anastasia ci siamo quasi State mettendo in ordine Bravissime Le ultime cosine Allora EasyJet Oggi mi ha fatto Veramente impazzire Perché ha continuato A darci dei ritardi Eravamo arrivate A quasi un'ora di ritardo Mentre adesso Ci siamo accorte Che ha recuperato Un pochino Dai Benissimo Meno male Speriamo che continui così Quindi adesso Ma speriamo di no Anastasia Dai ti prego Voglio arrivare e mangiare Perché qua oggi Non pranziamo E mi sa che non scendiamo Allora Adesso Chiudiamo le valigie E ci vediamo sul taxi Ok Sì Sandovan Sandovan Tu mi metti i giochi di misa Ragazze Valigie Sì Tra pochi minuti Arriva il taxi Siamo super pronti Valigie pronte Zainetti pronti Andiamo Guardate male Vieni Cosa devi fare Vai E vieni E gira gira Anastasia Ci vediamo sul taxi Ciao Noi Noi siamo sul taxi Mezz'oretta 40 minuti al massimo Siamo arrivati Ok Va bene Sì Contenta Sì Indovinate che tempo fa Piove Yeah Siamo pronti Per il check in Allora bimbe Tra due ore parte l'aereo Abbiamo due ore di tempo Volete andare a fare un giro Andiamo a vedere cosa c'è Vuoi la torchina Vuoi la torchina amore Va bene Una cioccolata calda No perché poi non la bevi Va bene Vanessa ha mangiato a casa Tu non hai mangiato niente Però voglio la torchina amore Andiamo a farci un giro Dai Allora Un muffin al cioccolato per te Un niente per te Giusto? Resta qui un attimo Che io vado con Vane A prendere una cosa È buono? Sì Bevi la questa eh Andiamo Andiamo a prendere un libro Dove? Lo si inghiaccia Dove si va? A prendere l'ennesimo giornalino dell'enigmista Da non usare? No sì lo uso Va bene Tipo anche nell'aereo Speriamo eh Dai Vediamo un po' No Qua non penso che ci sia eh È tipo questo Eh Però? Per bambini? Mamma mia È il Dilan Dog Quanto tempo che non vedevo un Dilan Dog Questo qua No questo qua No intendo questo qua Ah ecco Questo qui è per bambini Brava Anche questo Puzzle di relax Ok Scendine uno Però lo fai insieme a tua sorella eh Che io due non ne prendo Perché tanto poi non ne usiamo Questi si possono anche portare Sotto l'ombrellone Eh non va bene? Non ti piace? Sì va bene Eh allora vedi te Vuoi prendere questo regalino da fare? Sì Va bene dai Prendilo così Anastasia scontenta Ah non ho mai preso un quaderno Ho comprato un quaderno perché devo fare la fattura Oh non abbiamo trovato niente Che Un regalino anche per te Ehi sono la tua sorellina che ti pensa sempre Sì È vero eh È lei che me l'ha detto Eh non ci riusciamo ad aprirlo? No Fa papà Papi Vediamo cosa c'è È un regalino Però non state Però non state E' ancora il singhiozzo amore Io ce l'avevo vedere il singhiozzo Così inchiodato? Oh vediamo un po' Cosa c'è? Oh gli anellini Che belli Ti piacciono? Puoi? Puoi? Wow Libri Bello per colorare Così puoi farlo sull'aereo adesso Vero? Un viaggio Poi? Gira Le mollettine Che belle C'è ancora qualcosa? Finito? Sì Bello Come si dice alla tua sorellina? Grazie Amore Brava amore Allora cuccioline Dove siete sedute? E chi c'è dietro Vanessa? Chi gioca? Un aeroplano A parte papà Allora siamo Guardate quanta gente che c'è Stiamo attendendo di salire sull'aereo finalmente Che problemi? Racconta ai tuoi fan che problemi stai avendo Racconta ai tuoi fan che problema stai avendo No Racconta ai tuoi fan che problema stai avendo E chi c'è dietro di me? Un ragazzo che sta mangiando 25 ragazzi che sta mangiando E perché non hai mangiato nulla Quando ti abbiamo chiesto di mangiare qualcosa? Adesso sull'aereo Ah non lo sapete Non ve l'ho mai detto Hanno aggiunto Il Burger King Non è vero Giuro 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 Sì è una convenzione con Signor King Burger Ma non è vero Ma ti piace così tanto Sto schifezza È una schifezza Però c'è il panino Il panino buonissimo Non te lo ricordi Hai sentito cosa ho detto? Cosa? Si leccano pure le dita Che schifo in aeroporto Ma il gel l'hanno messo Vuoi andargli a leccare il dito? No Il sacchetto Il sacchetto Ti ho chiesto prima se mi prendevi il Burger King Non è vero Non me l'hai chiesto E mi hai detto che non l'avevi fa A me non dire bugie Non c'era neanche il Burger King E se io te lo chiedi? Se me l'avessi chiesto Io te l'avrei preso Ma io non l'ho visto Allora voglio di pizza Di pacca e di tutto Di pizza? Voglio anche di Adesso quando arriviamo Vediamo intanto Cosa ci sconsiglia Mister Nino No fai Adesso si arriviamo sull'aereo e mangi No Va bene Buon viaggio Allora Vanessa Se avrai il coraggio Di andare da quei ragazzi A chiedere una sola patatina Ti do 100 euro Io non pensavo che c'erano In una persona Ci sono veramente Vai Vai a chiedere Non sei coraggiosa Tu hai il coraggio? Dai Ali tu si Secondo me tu si Mi ricordo quelle volte Che hai lasciato la pizza Hai lasciato? I pezzi di Burger King In cui avevo lavato i chili o lasciato Ah in quello In centro Che c'era anche la zia Samantha Che io ho preso il burger vegetale E ci sono i panini lì Eh vedi? Buono Non è Burger King È un locale Allora finalmente siamo sull'aereo Ma io sono già legata Ancora niente Ma io sono già legata Bravo amore mio Questa volta in mezzo mi ci sono messa io Cosa? Adesso è vero Adesso si fa quello su Che tu devi fare così E se la ti sento così E certo amore Adesso quando parte Che è la parte più bella Del volo No mamma io Io adoro quando l'aereo decora Mamma Ma a me non piace Ma forse Tu ce le hai messi qua Amore non è il mio aereo privato Ah no no Non li ho presi qua i tappi Allora Vanessa hanno appena fatto l'annuncio Che Lo sta dicendo in altre lingue Praticamente essendo che oggi appunto c'è maltempo E quindi ci sono delle turbulenze Verso sia la Liguria che la Sardegna Lui deve attendere l'ok per poter partire Quindi non si sa che ora partiamo E il volo dura un'ora e cinque Comunque un'ora e dieci No non lo so Ah ma quello che è partito Mi senti i motori che si stanno scaldando? Hai idea? Di quello che sta per succedere fra poco? L'emozione più indescrivibile del mondo Dopo la nascita di un bambino E allora goditi questo momento amore Che c'è? Cosa c'è? Niente Preoccupata? No? Niente? Stai guardando quello che ha detto lui Stai pensando a quello che ti porta da mangiare dopo? No guarda quello Cosa ha detto? Cosa ha detto il signore? Cosa ha detto? Che se ti può succedere qualcosa Tu riesco a cercare quel pulsante che è sopra di te Sì? E ti esce la maschera Ma tranquilla non ti preoccupare Se no ti metti il giubbotto Ovvio Lui ti deve raccontare tutto lui Per forza Eh? Ok? Buon viaggio Grazie Si prende quota? Prende velocità? Già partito? Ani Ani tutto ok? Sì Non è bello? Solo a me piace Non ti piace a te? No? Perché? Ma sì Sì mi piace A me piace un sacco Perché a me Cioè mi rilassa Mi fa Ma lo so infatti Sarà che Ma so metà Appunto Ma solito non voglio chiudere gli occhi Quando parte? Perché di solito li chiudi Nooo Ha preso velocità? Anche quella Non è bello Ci siamo Che figata Ani Com'è? Bellissimo Bellissimo Adesso si stacca eh? Anzi si è staccato forse Ma no Ma no Ma che si stacca Ma che si stacca Si è staccato Eh ma da qua vedo Non si è staccato Sì sì No No Si stacca quando sentiamo Allora ragazzi Io probabilmente In un'altra vita Si è staccato Sì Senti i bimbi come sono contenti Che bello Adesso vi faccio vedere tutto Comunque vi stavo dicendo Che probabilmente In un'altra vita Ero una pilota Perché amo Questo momento Non so voi Ma a me piace un sacco Guarda guardate le macchine Guarda di là Che sono tutte le macchine Sull'autostrada Ok Snack arrivato per Anastasia Oh oh Per Anastasia Abbiamo le Pringles E di MMS Mamma Romina Guarda oggi Mi sto facendo Eh ci sono un po' Di turbulenze Proprio adesso Che dobbiamo mangiare Vanessina Allora Io ho preso invece Questi cracker Al formaggio che adoro Vanessina come sono Buonissimi E cosa abbiamo preso Anche Pistola Mamma mia Guardate che belli Salamini E Io Uno Uno spritz È nuovissimo Che non l'ho mai visto Alla menta E limone Non c'erano No no Mai visto Anche il cambiato Un kit kat Quelli di MMS Non c'erano Ok Perché se no io prendo Le MMS Ok Adesso a te arriva la pizza Adesso a te arriva la pizza Speriamo che ti arrivi Prima che atterriamo Perché il volo è veramente breve Allora Ci vediamo Poi Sul taxi Per andare a casa Va bene E poi ci vediamo Certo Stiamo per atterrare Abbiamo mangiato Giusto il tempo Di un aperitivo È il viaggio Verso la Sardegna È fantastico Ho visto La Sardegna E la Sicilia Arrivano Arrivano No Sei sicura Ragazzi Non so se la vedete Ma tipo qua C'è la Sicilia Qui E qua è tutta la Sardegna Ci vediamo dopo Ok Grazie Siamo Stiamo a Pterrando E Adesso andiamo a casa Siamo troppo felici Non vedo l'ora Che poi Dobbiamo andare al ristorante A mangiare Quindi ci vediamo dopo Ciao ciao Allora ragazzi Anastasia Non saluta Ma Noi Questa sera Al ristorante A San Pedroro Eh No niente Stavamo guardando Se c'era Ma no Però secondo me È questa la cosa Ah Che secondo me Ma non riesco Cosa Ma cosa Atterrati Ale ale In terra sarda Stiamo arrivati Adesso prendiamo le valigie E il taxi Andiamo a casa E a casa Ok Siamo arrivati alla nostra casina Ciao casina bella Adesso Anastasia Adesso Anastasia Visto che abbiamo ancora un po' di tempo Prima di andare a cena E poi Sembra che la macchina non parta Rispiamo le valigie Mi aiuti No Adesso puoi ingerire No 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 Mi aiuti Che cosa no Mi aiuti Dai adesso che manca Vanessa Vane Vane Andiamo a disfare le valigie No no Andiamo a disfare le valigie Adesso no domani Adesso andiamo a disfare le valigie Dai Ok cuccioli Andiamo a cena Andiamo 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 A cena noi andiamo Allora dobbiamo andare in fondo alla strada Perché c'è il taxi che ci sta aspettando Perché la macchina non va Perché la macchina Perché la macchina Perché la macchina Perché la macchina Mono pattino Oggi lo sto percando così dopo lo va a prendere Ecco la macchina E là La nostra macchinina E poi le va a comprare le batterine con il loro pattino Mono pattino Mono pattino Sì E va a comprare le batterine e mette le macchina E mette la batteria nella macchina E si va Va bene amore Allora siete pronte? Sì A vedere insomma Le vecchie amicizie Eh bene Ah le abbiamo già viste in aeroporto È vero Che c'è Ani? Ti vedo perplessa Tutto ok? Hai qualche dubbio? Hai qualche perplessità? Quale? Di Giulia Non c'è Giulia amore L'ho già sentita prima la sua mamma Ha detto che anche da lì ha smesso di piovere Però se riusciamo magari uno di questi giorni Se loro hanno voglia di venire Ma perché è lontano Ci raggiungono loro Ok? Perché con la macchina che abbiamo noi È meglio che stiamo a casa Prima che ci lascia per strada Sì Siamo arrivati Tieni Aspetta Niente t'ha visto prima lei Che io Giulia Sei contenta Hai della sorpresa Sì E tu Giulia? Contenta amore Allora dai raccontatemi un po' la vostra emozione Nell'esservi incontrate a sorpresa Dimmi la verità Te lo aspettavi che c'era Giulia? Ma niente Vero? Sì Sì Lei se lo aspettava Hai vissuto la camicia Lo so amore L'ho vista Tu Giulia invece te lo aspettavi? Neanche un pochino Non hai pensato mai minimamente Secondo me è uno scherzo Io incontrerò Anastasia Brava amore Ani? Siamo tornati a casa Stiamo trovando tutti i giochini Che abbiamo lasciato la sua sana Ma è grandissimo questo popis Te lo so Eh? Sì Che bello Ti è piaciuta la sorpresa con Giulia? Sì La tua compagna di classe? Domani ci rivediamo Domani ci rivediamo Adesso però andiamo a dormire Perché questa giornata è stata lunga Abbiamo viaggiato Siamo arrivati in Sardegna E ci vediamo domani con un prossimo video Eh? Sì Buonanotte Cuciolini e cuciolini Iscrivetevi al canale Ascrivetevi al canale Ascrivetevi al canale Lasciate un like A questo video E comprate le nostre Unche su www.manetigro.shop Ciao male E' arrivata mezzanotte Le campane sono in festa Voglio spiare Pappo Natale Non ci vedo niente di male Presto Anastasia Corriamo giù Mamma